Dei dubbi su uno dei più diffusi farmaci contro la depressione. Secondo infatti alcuni ricercatori inglesi ed americani avrebbe questo farmaco soltanto un effetto psicologico. Da Londra sentiamo il corrispondente Giovanni Masotti. Un'illusione la strombazzata pillola della felicità. Vano delegare alla chimica la stabilità del proprio umore. Gli antidepressivi più popolari e più ingurgitati, il Prozac in testa ma anche il Xeroxat, valgono poco più di un placebo, una differenza irrisoria, clinicamente inutili, tranne che in casi assolutamente gravi. L'ammazzata contro uno dei facili miti degli anni 90 viene dal professor Irving Kirsch, Università di Hull, che ha messo insieme i risultati di 47 studi americani e britannici su quelli che tecnicamente sono definiti inibitori selettivi del riassorbimento della serotonina. Le persone che soffrono di depressione possono migliorare senza trattamenti chimici, con l'esercizio fisico o la terapia psicologica, che è dialogo e ascolto. Le industrie farmaceutiche sbattute sul banco degli imputati replicano parlando di studi parziali, affrettati. Mediana la posizione della maggior parte degli psichiatri italiani, no alle prescrizioni facili, ma non si può negare che spesso gli antidepressivi funzionano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.